Come sta il nostro territorio? Il nostro territorio è un territorio che, pur essendo antropizzato da millenni e ospitando realtà industriali importanti, è un territorio sano, un territorio salubre, presentando dei punti di criticità. Questo convegno mette in evidenza quelle che possono essere le esternalità ambientali legate alle abitazioni isolate, quindi alla necessità di garantire al cittadino una qualità nell'acquisto, nell'installazione e nella fruizione di un certo tipo di tecnologie che servono a minimizzare, in questo caso, l'impatto di quegli scarichi fognari che potrebbero essere dispersi nelle falde acquifere. In questo caso, con l'utilizzo di appropriate tecnologie, con una regolamentazione propria del Comune di Arezzo, in conformità con le direttive provenienti dalla Regione Toscana e dalle direttive nazionali, dobbiamo creare dei processi virtuosi che portano gli edifici isolati a depurarsi in loco i propri scarichi. In poche parole, le persone non devono più bersi i propri qualificali, volgarmente parlando, ma depurando l'acqua in loco possono riutilizzare i propri scarichi come prodotti di pregio, cioè acqua che può essere mandata ai WC, acqua che può essere utilizzata per irrigare.